Il tiro finale di Sani dopo il tocco di Rivera che all'ambito il montante in basso alla destra di Costa Ferreira I minuti di gara 9 nel corso del primo tempo fra Milan e Benfica Terzino Treppi, formidabile Mora Bello scambio con Altafini E' la terza volta che il nostro bravissimo Altafini impegna formidabilmente il portiere Palla Torres Trapattoni lancia verso Altafini Rivera Mora Altafini Fulminio e le sue inter... Ribera Mora Il lancio del portiere E' costretto a salvare